Salve, cominciamo con Stefania Sandrelli. Nel film lei si definisce un po' come un vigile urbano delle vite di questi uomini che ruotano attorno alla sua. Ci spiega un po' in che senso? Ma credo che sia sotto false spoglie ogni donna si possa riconoscere in questo ruolo di vigile urbano. Perché? Perché tocca a noi a dirigere il traffico. Il traffico della famiglia, da quando nasce un bambino a quando poi diventa anziano, eccetera, insomma, no? E' una bambina, ma insomma, diciamo, qui ci sono proprio i rapporti tra maschi e femmine, proprio. Voglio dire, ruoli femminili e ruoli maschili, nevrosi femminili, nevrosi maschili. E' stato molto divertente, è stato molto bello, insomma, mi ha dato moltissimo recitare con tutti loro e essere diretta da un regista così attento, così sensibile, così affettuoso. Luca, lei ha parlato in conferenza di aver diretto il film pensando ad un brano jazz. In che senso? In realtà, sì, è una metafora, ricordando quando lavoravo in televisione a Londra, questa intervista a Arbienco, che parlava dei musicisti che lavoravano con lui, ognuno doveva farla solo, come tentando di essere più potente, più innovativo, più forte degli altri, ed era proprio la somma di tutti questi assoli, in realtà, che dava la forza del brano. In questo caso era un po' la stessa cosa, cioè io avevo a disposizione dei musicisti fantastici, ognuno in grado di rendere il proprio personaggio, il proprio assolo, fortissimo, però era proprio nella complessità di questi strumenti, nella loro forza, che veniva fuori la compattezza del brano. Ed è interessante anche proprio il discorso dei ruoli, che è un po' viene fuori proprio nel fatto di dover interpretare un ruolo e magari essere qualcos'altro, che è un po' anche un musicista, magari, quando nella solo tira fuori quello che è dentro di lui. Ecco, il soggetto è stato scritto da Cristina Comencini. Com'è nata la collaborazione e la scelta di dirigere proprio questo soggetto? Ma in realtà, come è la mia particolarità nel panorama italiano abbastanza unica, mi hanno fatto leggere il copione, e a me è piaciuto moltissimo. Diciamo che la Catlea è l'unico caso di produzione che si comporta un po' da studios, come direbbero in America, e trova il copione giusto, trova il regista giusto, poi si va avanti col cast, insomma, crea un progetto significativo. Ho letto questo copione, il fatto di ambientare una parte a Milano, ovviamente mi trovava totalmente la storia nelle mie corde, e mi sono reso conto subito che c'era bisogno di un cast fantastico, e i produttori erano ovviamente d'accordo, e poi siamo andati avanti. Ecco, nel film torna ciclicamente una battuta sull'età, cioè si tende sempre a puntualizzare, non ho 31 anni, ne ho 32, viceversa, insomma, no? E poi il personaggio di Giorgio Colangeli è un personaggio che ha paura di invecchiare, senza voler svelare troppo del film. Ci fa un commento su questo aspetto? Beh, più che paura di invecchiare, credo che come tutti gli esseri umani, a un certo punto si avverte la necessità di, proprio, di riorganizzare la vita, perché le energie non sono più eterne o non consumabili. Si tratta di cambiare, anzi di darsene delle priorità, prima non è necessario perché si arriva a fare tutto. Insomma, forse questo è il momento critico, in cui un uomo si volge, il futuro lo spaventa e il passato non gli basta, e allora cerca di modificare drasticamente il presente, e allora magari può venire fuori l'amante, oppure l'insoddisfazione del lavoro che stai facendo, insomma, una molla a cambiare. Io mi creo una mollettina, perché dai, questa contabile non è, contiene già l'idea di rimanerle fedele, praticamente, ma comunque di creare un'altra distrazione, qualche cosa, una compagna di giochi, quasi. È quasi una regressione infantile quella di Sandro. Il tentativo di sentirsi ancora vivo. Esatto, esatto, mi fa sentire giovane, mi fa... E quindi lì sto a puntualizzare il 63 invece di il 65. La blefaroplastica. La blefaroplastica. Stefania, lei ha lavorato con Vittorio Gasman, ne è stata la moglie, l'amante. Adesso, in questo film, è la madre di Alessandro Gasman. Sì, Alessandro l'ho conosciuto molte volte, lui e me, con il suo grande padre, Vittorio. Abbiamo lavorato assieme in teatro, quindi ci conoscevamo bene entrambi. E questo ha facilitato proprio il ruolo di madre e di figlio. Ci siamo molto simpatici. Penso, tutti e due abbiamo, insomma, pensiamo di conoscerci bene. È stato molto bello lavorare insieme a Alessandro, che per certi versi ha anche delle potenzialità maggiori del padre adesso, no? Perché ha preso, insomma, una strada diversa ed è molto, molto bravo. Alla fine del film si intuisce, però, correggetemi se sbaglio, la donna della mia vita non mi sembra tanto essere Alodovini, mi sembra essere lei. La donna della vita di questi ragazzi? No, sono, beh, no, lei è una sorta di Jules Gim, povera lei, insomma, è un chiave ironica. Sì, sono le donne della vita, poi, alla fine, no? È anche la donna della mia vita, che non la scelgo io, ma si fa scegliere lei. Sì, esatto. Comunque, specialmente per noi italiani, la mamma è sicuramente una delle donne della nostra vita. La prima, almeno la prima. Esatto, quantomeno la prima.